In quella partita mi ricordo proprio quel risultato con l'Inter 1 a 0, l'unica gol in Serie A mio, lo ricorderò per sempre, un'emozione grande. Mi ricordo che ero entrato, ero partito dalla panchina, sono entrato dopo pochi minuti, un calcio d'angolo battuto da Carletto Perrone, palla al centro d'aria, praticamente in mezzo a scivolata sono riuscito a fare gol. Pagliuca da una parte, palla in rete, 1 a 0 per il Padova. Farei un passo indietro perché non si sarebbe...